Allora Mary, andiamo a cantare subito un'altra bella canzone e poi facciamo salire Facciamolo salire, dai che lo stanno aspettando Lo stanno aspettando, wow, very nice Very nice, vieni, vieni Allora accogliamo un bel applauso con l'amico nostro Maurizio Mastro Stefano Ciao Maurizio Buonasera a tutti Ciao Maurizio Buonasera Saluto sempre tutti gli ammalati, come ben si sapete che è la cosa più cara Bravo, bravo Voglio ringraziare a voi dell'ospitalità che mi date Di tutto lo staff, diciamo, di Ciao TV E voglio salutare mia moglie con mia cugina Carmela Che poco anzi hanno telefonato Carla, Teresa, Giancarlo E un'altra sorella di Carla che sta in Svizzera Che mi sta adesso guardando Insomma, dico Mi hai dato lo spunto per mandare un bacione forte forte lì in Svizzera Alla famiglia Ciao Raffaele, un bacione forte forte per te Per tua moglie Domenica, per Carmela E per Rosa e per Antonio Un bacione forte forte lì in Svizzera Allora, a vista che ci troviamo in Svizzera Anche io a Tuccia d'amore Va bene, allora, diciamo, vi ho dato Come si... Lo spunto Lo spunto, lo spunto, very nice Lo spunto, very nice E voglio dire un'altra cosa Voglio salutare anche questo ragazzo Che ho saputo che ultimamente sta bene Questo ragazzo che... Vincenzo Vincenzo, esatto Sì, un bacio a Vincenzo Che è tornato a casa Esatto, finalmente sono... Siamo contentissimi, insomma, tutti quanti Sì, 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 anche noi Siamo contenti Saluto tutto di anno, sempre da parte mia E voglio salutare questo sponsor Di Mario Rossi Che questa sera ha telefonato Sì, è in diretta Ha telefonato E che poi Lo andiamo a trovare Sicuramente, sicuramente Fa una pizza Squisitissima Squisitissima, dico la verità Molto buona Ed eccolo qua Lo facciamo anche vedere Lo facciamo rivedere di nuovo A Mario Rossi Con tutto lo staff Che ha creato la pizza very nice Ha creato... Sì, guarda Se l'hai te la pizza in mano Ma Maurizio c'ha la pizza Ha creato la pizza very nice Pizz very nice Una pizza che nessuno ne ha dire Mi auguro che La faranno anche altri pizzaioli Insomma, questa pizza very nice E devo augurare un bar Devo augurare A Casal Nuovo, sì Ma è tuo il bar? No, non è mio Allora si chiama bar 2001 Sì, mi ha contattato Mi associo Che deve togliere il 2001 Ma deve mettere bar very nice Io devo andare all'inaugurazione Bravo, bravo Visto, Maurizio Visto come... Un very nice Una parola di augurio Alla grande Siamo tutti quanti numero uno Bene, grazie Alla grande Grazie sempre a voi Delle ospitalità Come ben si invitate Un bacio E sempre un abbraccio Da parte mia A tutti voi E saluto tutto lo staff Di Ciao TV Che veramente siete persone squisite Bravissima E grazie anche del casting Di stamattina con voi Che sono onorato Diciamo di partecipare con voi Con grande gioia E con il cuore Bravo Maurizio Un bacione a tutti quanti A chi app Ehi Maurizio Si separano stasera Ciao Maurizio Ciao, grazie Grazie a tutti 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 Grazie a tutti